allora cari amici ci ha raggiunto e sono davvero contentissimo ci ha raggiunto mia martina ecco grazie quante canzoni ci canterai spero moltissimo spero anche io di avere il tempo di cantarne un po facciamo subito vedere il tuo compa comunque la nostra cantante di provincia come dici tu è bravissima io voglio fare i complimenti ai miei personali a Rita ma poi questa ragazza va incoraggiata anche perché non è più giovanissima allora io la adoro credo che sia insieme a te una delle poche grandi voci grazie paragonata mia ti ringrazio allora fosse carina sarebbe perfetta la musica che mi gira intorno questo è il titolo del questo è il titolo del compat e qui ci sono non è una compilation qui ci sono no no assolutamente ci sono delle delle splendide canzoni di grandi artisti come fossati di andrei di gregori dalla ben nato i fratelli ben nato vasco rossi zucchero e mimo cavallo è un bel titolo la musica che mi mi gira intorno queste canzoni sono un po miei compagni di viaggio da tanti anni sono brani anche scritti molti anni fa e me le porto dentro da tanti anni ce ne sono almeno tre che io sarei in grado di cantare non lo farò oggi un po di nasalità ce l'ho abitualmente ora ho anche la raucevine quindi risparmierò le tue canzoni amici questa sera alle 23 sarà con noi qui nel nostro salotto mario molice telefonate tantissime come sempre il nostro pubblico ci segue con attenzione e vuole come dire conversare con i nostri ospiti rite melba siete meravigliose grazie che chiama da alba giuliana no invece io l'amo e ci vogliamo proprio bene ci vediamo viviamo a 50 metri di distanza io amo molto loredana e credo che loredana ami molto anche me però non ci sopportiamo questo è terribile alessandro martina vorrebbe ascoltare a gattivo di mia pimo una canzone di carita prima però non se lo ricorda bene c'è mario un gruista si chiama mario locascio chiama da foggia dice mi è piaciuta molto mia martini a domenica in con quella camicetta trasparente una camicetta trasparente un abito con un taschino che mi copriva il copribile poi si è spostato è un provincia di vari tantissimi complimenti a mia martini bellissima la canzone stelle di stelle cantata con claudio baglioni lavorerete ancora insieme chiede ma non lo so bisogna vedere se claudio scrive qualcosa di adatto a tutti e due perché no antonutti paola da roma la seguo tutte le pattine alla radio e lei è molto bravo